Ciao ragazzi, ben ritrovati in un altro tutorial, quest'oggi una canzone marchiata a fuoco dal grande John Lennon di Meijin. Innanzitutto guardiamo il ritmo base che ci accompagnerà per tutto il brano, successivamente poi vi spiegherò tutte le variazioni che ci saranno nello spartito e anche i fili. Il brano è a 76 bpm, manteniamo questa velocità. Gruppo di base che vede Charleston in ottavi, sull'uno troviamo un colpo di cassa, rullante sul due, sul tre troviamo due ottavi di gran cassa e ancora sul quattro rullante. Ok, adesso guardiamo la struttura, partiamo dall'inizio. Introduzione prima strofa che vede tutto suonato senza la batteria, prima del ritornello troviamo un fill semplice semplice. primo e secondo quarto di pausa, su tre suoneranno gli ultimi due sedicesimi, il primo sul primo tom e il secondo sul secondo tom. Sul quattro troviamo una pausa di un sedicesimo e poi troveremo sul secondo sedicesimo una nota sul secondo tom e il secondo ottavo sul timpano. ritornello che vede il nostro groove di base per tre misure, dopodiché la misura successiva vede un colpo di gran cassa sull'uno. Passiamo alla strofa, sette misure ancora di groove di base, misura che precede il secondo ritornello con un fill. altro ritornello con due misure col groove di base, una misura che vede come variazione sul tre un colpo semplice di gran cassa, misura successiva con la nostra cassa sull'uno e poi ancora una misura col groove di base. Successivamente troviamo cinque misure in cui c'è una variazione sul nostro groove di base che vede sul quattro suonato l'ultimo sedicesimo con la gran cassa. Prima di ritornare alla nostra strofa troviamo ancora una misura con il fill che abbiamo suonato in precedenza, che chiuderà nella misura successiva con un colpo di cassa e crash sull'uno. Altra strofa, sette misure con il groove di base e poi un fill uguale a quello precedente ma anziché usare i due tom userà il rullante e il timpano. Vediamolo. One, two, three, four. Di nuovo un altro ritornello, due misure con il groove di base e una misura che vede un piccolo fil. Cassa sull'uno, rullante sul due, cassa ancora sul tre, sul quattro troviamo due sedicesimi sul rullante e un ottavo suonato con la cassa. Misura successiva che vede sull'uno un colpo di cassa. Altre cinque misure con il nostro groove di base e poi abbiamo due misure di fill che vediamo nel dettaglio. La prima vede il fill suonato prima con i due colpi sul rullante e uno sul timpano. Cassa sull'uno, rullante sul due, sul tre abbiamo un colpo di cassa sull'ultimo sedicesimo, un colpo di rullante, sul quattro un colpo di rullante e sul secondo ottavo il timpano. Alta misura invece, cassa e crash sull'uno, rullante sul due, sul tre vediamo una figura divisa con un primo ottavo sul rullante, sul secondo ottavo diviso in due sedicesimi abbiamo un colpo di rullante e un colpo sul primo tom. Sul quattro in ottavi, un ottavo sul tom e il secondo ottavo, cassa e crash. Misura successiva che vede sull'uno un colpo di cassa insieme al crash. Vediamo tutte le due misure suonate. One, two, three, go! Come avete potuto capire, non è molto difficile, quindi allenatevi con tranquillità, divertitevi, spero anche per oggi di aver fatto un video utile, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, tutte le settimane ci sono delle novità, attivate le notifiche e rimanete sempre aggiornati. Nuovi video, nuovi contenuti, insomma tantissimo materiale, tantissimi video divertenti. Non mi resta che salutarvi e augurarvi come sempre un buon divertimento e un buon gru. Ciao ragazzi! Ciao! Grazie a tutti